La funzione del Naviglio del 66 Giugno del 66 Del 6 novembre del 66 Questo qua Del Naviglio che rupe qua Questo però non me lo ricordo Perché questo è del 1849 E invece questa volta dove siamo arrivati? Più o meno qua Questa qua Forse questo è interessante Grazie